Ciao ragazzi, in questo video ci occuperemo del destino dell'Unione Sovietica dopo la morte di Lenin e dell'ascesa di Stalin al potere. Il 21 gennaio del 1914 morì Lenin, che era stato il leader della rivoluzione russa. Dobbiamo dire che in realtà Lenin si era già allontanato dalla dita politica nell'ultimo periodo della sua vita a causa di una grave malattia che pare gli avesse provocato anche la demenza. Alla sua morte si aprì una lotta interna al partito per la successione. I motivi dello scontro erano legati alle diverse idee in merito al futuro della rivoluzione. E a scontrarsi furono in particolare due personaggi, Trotsky e Stalin. Trotsky l'abbiamo già sentito nominare ed era il comandante dell'armata rossa. Sosteneva l'idea di una rivoluzione permanente. La Russia avrebbe dovuto esportare la rivoluzione in Europa e nel resto del mondo per giungere alla distruzione totale del capitalismo e all'affermazione del comunismo. Al contrario Stalin, che era il segretario del partito dal 1922, pensava che era necessario affermare il socialismo in un solo paese. Quindi la Russia avrebbe dovuto concentrarsi sul consolidamento del sistema economico e militare sovietico per poi diventare il paese che sarebbe stato il modello ideale di paese socialista e che avrebbe fornito eventuale sostegno e supporto agli altri paesi in vista di un'eventuale futura rivoluzione al di fuori dei confini della Russia. Lenin, dal canto suo, aveva manifestato le proprie perplessità riguardo il suo ipotetico successore in una lettera che è considerata il suo testamento spirituale. In questa lettera Stalin appariva come un personaggio brutale ed eccessivamente rigido e poi effettivamente si rivelerà molto molto rigido negli anni a venire. Addirittura Lenin diceva che all'interno del partito, già da segretario, Stalin aveva imposto una sorta di piccola dittatura all'interno del partito stesso. Scriveva infatti Lenin, il compagno Stalin, divenuto segretario generale, ha concentrato nelle sue mani un immenso potere ed io non sono sicuro che egli sappia servirsene sempre con sufficiente prudenza. D'altro canto, il compagno Trotsky si distingue anche per le sue eminenti capacità. Personalmente, egli è forse il più capace tra i membri dell'attuale comitato centrale del partito ma è anche uno che ha un'eccessiva sicurezza di sé e una tendenza eccessiva a considerare il lato puramente amministrativo dei problemi. Insomma, se fosse stato per Lenin il suo successore sarebbe dovuto essere Trotsky. In realtà però sarà Stalin e nel momento in cui Stalin salirà al potere la prima cosa che farà sarà liquidare tutti gli oppositori interni. Lo stesso Trotsky sarà vittima di Stalin perché verrà deposto dal comando dell'Armata Rossa e sarà sottoposto ad una violentissima campagna denigratoria che culminerà nel 1929 con la condanna all'esilio e all'allontanamento definitivo dal paese. Addirittura poi Trotsky sarà assassinato da un sicario di Stalin nel 1940 a città del Messico. Ma qual era il piano di Stalin per la Russia? Dal punto di vista economico la Russia nonostante risultati parzialmente positivi ottenuti grazie alla NEP di Lenin era ancora un paese che necessitava di una forte spinta dal punto di vista dell'industrializzazione. Per questo Stalin decise di intervenire per modernizzare il sistema industriale sovietico e la struttura delle grandi imprese agricole con l'obiettivo di trasformare l'economia sovietica da un'economia a prevalenza agricola ad un'economia industriale. Per farlo Stalin utilizzerà i piani quinquennali. Alla base però dei piani quinquennali c'era una necessità ossia quella di trasferire la manodopera ai capitali delle campagne all'interno delle città. Questo perché? Perché l'economia russa era un'economia a prevalenza agricola e gran parte della manodopera e dei capitali si concentrava all'interno delle campagne. L'agricoltura sarebbe stata posta al servizio del sistema tramite la collettivizzazione forzata delle terre. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non sarebbe più stato possibile possedere e gestire una propria azienda agricola neanche se piccola. Perché ogni azienda agricola sarebbe stata nazionalizzata e collettivizzata con la forza. La nazionalizzazione delle terre prevedeva la creazione di due tipologie di aziende. I Colcots, che erano delle piccole aziende formate da contadini che lavoravano collettivamente la terra tenendo per sé parte dei prodotti e dando il resto allo Stato e i Sovcots, che erano invece delle aziende statali molto più grandi. Esisteva però in Russia un piccolo gruppo di piccoli e medi proprietari terrieri chiamati Kulaki che non avevano nessuna intenzione di abbracciare questo processo di collettivizzazione o di nazionalizzazione delle terre. Per cui tutti questi piccoli imprenditori agricoli che non si adeguarono e furono circa un milione vennero perseguitati o eliminati con deportazioni, violenze e arresti. Questo processo di collettivizzazione delle terre fu alla base dei tre piani quinquennali che saranno varati per controllare, indirizzare e organizzare l'economia. Lo Stato decideva quali beni sarebbero stati prodotti, in quali quantità, in quali fabbriche e lo Stato avrebbe anche stabilito quanta parte di questi beni sarebbe stata destinata al consumo interno e quanta parte all'esportazione. In poche parole, finiva, o meglio, veniva cancellata con il primo piano quinquennale qualsiasi forma di libera iniziativa economica che era stata reintrodotta dalla NEP. Ad essere favorite da questo periodo di industrializzazione furono soprattutto l'industria elettrica, l'industria siderurgica, le industrie che lavoravano minerali e materie prime estratte dai grandi giacimenti disseminati per tutto il territorio russo. C'è però da dire una cosa. C'è da dire che mentre nel resto del mondo si accusavano i colpi della crisi del 29, in Russia, che era un paese non legato ai prestiti statunitensi, il primo piano quinquennale portò alla nascita di grandi città fornite di numerosi servizi, per esempio di ferrovie, di strade, di centrali idroelettriche, di raffinerie petrolifere, e soprattutto questo primo piano quinquennale e i seguenti porteranno addirittura l'Unione Sovietica, quindi non solo la Russia, ma tutta l'Unione, a diventare in pochi anni la seconda potenza industriale del mondo. Tuttavia non è tutt'oro quel che luccica, perché è vero che questo progresso economico fu sicuramente positivo per il paese, però fu anche vero che ebbe numerosi risvolti negativi. In primo luogo il processo di industrializzazione e di modernizzazione era connesso a voler dimostrare al mondo la superiorità del sistema lavorativo socialista, e quindi sovietico. E in questi anni il progresso economico e la crescita economica portarono ad un elevato costo in termini di sfruttamento della forza lavoro e di sacrifici da parte della popolazione. Non a caso è in questo periodo che nasce il termine stacanovismo, un termine che viene utilizzato ancora oggi per definire quelle persone che si dedicano in maniera totalizzante al lavoro. Questo termine nasce proprio in questo periodo perché deriva dal nome di un minatore, stacanov, impiegato nelle miniere di carbone del Donbass, che grazie al suo impegno costante riusciva a battere spesso dei record di estrazione del carbone. Per cui stacanov diventò il simbolo della dedizione al lavoro e essere un buon lavoratore equivaleva anche a essere un buon cittadino allineato al regime. Stacanov infatti fu utilizzato anche per favorire lo spirito di emulazione e fu inserito all'interno di una vera e propria propaganda pro regime. D'altro canto, il tenore di vita degli operai non era però dei migliori, soprattutto perché l'enorme afflusso di lavoratori che dalla campagna si trasferivano all'interno delle città comportò numerosi disagi, soprattutto per quel che riguardava la ricerca degli alloggi e la fornitura dei servizi. Non di meno il potere di acquisto degli operai era piuttosto scarso, così come molto basso era il tenore di vita. Un altro elemento negativo era da ricercare nella scarsa innovazione tecnologica e tecnica all'interno delle campagne. Le campagne, nonostante ci fossero queste aziende, non avevano subito un processo evolutivo dal punto di vista tecnologico, le tecniche di coltivazione rimanevano arretrate e spesso le campagne non riuscivano a soddisfare pienamente il fabbisogno alimentare del paese. Allo stesso tempo, decidere a priori, cioè decidere in anticipo gli obiettivi di produzione, ad esempio quest'anno questa azienda dovrà produrre 400 quintali di grano, era controproducente. Perché? Perché magari quei prodotti poi non trovavano modo di essere venduti sul mercato, addirittura di essere esportati o consumati, per cui spesso si creavano degli sprechi in alcuni settori, mentre in altri mancava addirittura la possibilità di soddisfare, per esempio, il fabbisogno alimentare della popolazione. quindi c'erano problemi anche all'interno delle aziende stesse, questo perché era lo Stato che decideva in anticipo tutto ciò che riguardava l'economia. Scusate un attimo, ci sono, ho perso un attimo il filo delle slide. Dicevo, Stalin agì quindi sul fronte economico, ma allo stesso tempo agì anche per quel che riguardò la propaganda e la repressione dell'opposizione. A Stalin va associato il termine grande terrore e a Stalin va associato anche il termine regime totalitario. Cerchiamo di capire che cosa significa. Allora, intanto il regime di Stalin può essere definito una vera e propria dittatura che sfocia nel regime totalitario perché basa la sua forza sulla repressione, sulla propaganda, sulla formazione di una società fatta di persone che agiscono tutte allo stesso modo, secondo un'ideologia imposta dall'alto. Gli individui sono quindi inquadrati all'interno di un'esistenza in cui ogni aspetto della vita, che sia l'aspetto civile, che sia l'aspetto economico, che sia quello culturale e politico, è controllato dallo Stato. In un regime totalitario noi non siamo liberi di esprimerci come vogliamo. Se il regime sostiene che ci si debba vestire in un determinato modo o che si debba studiare una determinata materia a scuola, noi dovremo adattarci per essere cittadini, per non essere perseguitati. Il controllo di ogni aspetto della vita del cittadino è tipico dei regimi totalitari. A tal proposito, nella descrizione trovate un altro breve video in cui analizziamo invece le tre tipologie di regimi totalitari, quindi il nazismo, il fascismo e lo stalinismo, per cercare di capire quali possono essere le differenze e le affinità. Stalin quindi impose alla popolazione russa non solo dei sacrifici dal punto di vista economico, ma anche un modo di vivere con delle leggi e con un tempo che era, se vogliamo, scandito anche dallo Stato. Allo stesso tempo però, Stalin promosse attorno alla sua figura un vero e proprio culto della personalità. Ad esempio, in Russia giravano dei grandi manifesti che lo ritraevano sorridente in mezzo al popolo, che lo accoglieva sempre come un padre della patria. E spesso queste immagini erano accompagnate anche da degli slogan. Per esempio, nelle scuole, in quelle che poi erano le scuole per i più piccoli, su alcuni manifesti si leggeva «Grazie caro Stalin per la nostra infanzia felice». Quindi c'erano questi bambini che accoglievano Stalin in maniera festosa e festante e sorridenti. Stalin, insomma, appariva come colui che rendeva le persone felici perché faceva il bene della Russia. Oppure ancora c'erano dei manifesti con degli slogan «Grazie Stalin oggi si vive più felicemente». In parole povere, tutti questi slogan lasciavano chiaramente intendere una piena fiducia nei riguardi del capo, un capo che sembrava fare il bene del popolo. Allo stesso tempo, però, Stalin cerca di evitare qualsiasi forma di dissenso, per cui nel 1934 mise in piedi una vera e propria dittatura fondata sul terrore. Questo periodo, che passerà alla storia come il Grande Terrore, che ricorda un po' quello che avvenne nel corso della Rivoluzione Francese, fu caratterizzato dalla repressione e dall'epurazione. In primo luogo, infatti, Stalin cercò di eliminare definitivamente ogni oppositore all'interno del partito, soprattutto quando alcuni membri del partito chiesero di rivedere alcuni aspetti politici delle decisioni che erano state messe in atto. Per cui Stalin, sempre più fermo nella sua volontà di creare una dittatura del proletariato forte e potente, reagì con estrema violenza a queste richieste, eliminando fisicamente gli oppositori. In alcuni casi, vennero montati dei processi che passeranno alla storia come processi farsa, che in realtà sono processi finti o processi mai espletati, processi basati su prove che non esistono. E questi processi farsa finiranno per mettere a morte o per allontanare dalla Russia e dall'Unione gran parte dei vecchi capi bolshevichi che avevano partecipato alla rivoluzione e che avevano appoggiato Lenin durante il suo governo. Dal 1936 al 1938 tutti questi processi finirono con delle condanne a morte che erano spesso basate su prove inesistenti. Venivano condannate ai lavori forzati o a morte persone che svolgevano delle attività anticomuniste o che andavano contro lo Stato, ma spesso non c'erano neanche delle prove. Questo periodo viene chiamato il periodo delle grandi purghe e a farne le spese saranno non solo tutti i vecchi membri del partito bolshevico e anche dei militari che avevano fatto parte dell'Armata Rossa, ma anche, come abbiamo detto, Trotsky che morirà a città del Messico. Chi non veniva ucciso finiva nei Gulag. Gli antenati dei Gulag possono essere ritrovati nei campi di prigioni azzaristi nei quali gli oppositori politici o tutti quei personaggi che per qualche verso dovevano essere allontanati dalla vita civile o politica della città o del paese venivano condannati ai lavori forzati. Quando Lenin salì al potere decise di liberare tutti i prigionieri politici e mise appunto un progetto di ristrutturazione e di ampliamento di alcuni campi di lavoro per poter rinchiudere poi al loro interno quelli che Lenin chiamava i nemici del popolo. Stalin utilizzò e ampliò questa rete di campi di lavoro fino ad arrivare, pare, a 160 strutture che erano, scusate, dislocate anche in posti piuttosto lontani soprattutto in Siberia e pare che queste strutture abbiano ospitato nel corso della loro attività circa 10 milioni di prigionieri. Qual era però l'obiettivo di questi campi? A differenza di quelli tedeschi questi campi non avevano l'obiettivo di annientare e di uccidere ma di rieducare i traditori o nemici attraverso il lavoro. Pare addirittura che annualmente ci fosse una sorta di pianificazione degli arresti che prevedeva di decidere in anticipo il numero di persone che avrebbe dovuto popolare un determinato campo in un determinato periodo di tempo. In realtà però dobbiamo dire che all'interno dei Gulag non c'era nessuna vera forma di rieducazione perché spesso le persone venivano sfruttate fino allo sfinimento molte di loro morivano per le precarie e massacranti condizioni di lavoro disumane queste persone per esempio sono state utilizzate anche per la costruzione di ferrovie nel nord della Russia. In ogni caso passato questo periodo di terrore i Gulag resteranno diciamo attivi per diversi anni. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che nel 1934 il mondo comincia un po' a cambiare direzione. perché? Perché la Russia ormai è comunista altrove però mentre in Russia si era fermato il regime comunista si erano formati e andavano formandosi dei regimi di stampo fascista quindi dei regimi di stampo di estrema destra. A quel punto gran parte dell'Europa cominciò a mettere da parte il timore del pericolo rosso perché alla fine questi comunisti forse facevano meno paura rispetto ai fascisti per cui la minaccia fascista e soprattutto le mire espansionistiche di Hitler e del suo regime cominciarono a far pensare a Francia Inghilterra e ai paesi che facevano parte della società delle nazioni che forse questa Russia doveva essere in qualche maniera accolta all'interno della società delle nazioni perché l'URSS tutta insieme avrebbe potuto arginare il pericolo fascista. Questo argomento però lo vedremo nei video successivi in cui tratteremo degli eventi che precedono la seconda guerra mondiale e soprattutto la guerra civile spagnola.